Nico Maitini, protagonista di questa vittoria dell'Ilva a Villacidro, un'ottima vittoria perché la Villacidez è arrivata da due vittorie, però siete scesi bene in campo, avete sbloccato subito, gol di Madero, poi il raddoppio tuo è chiuso bene il 3 a 0, una bella vittoria. Sì, una bellissima vittoria per noi, penso che non ci saranno partite facili al girone di ritorno, ci è capitato con Kalanjanus che abbiamo vinto al 94esimo, questa siamo riusciti a sbloccarla subito, siamo stati protagonisti della partita, tanto il primo tempo come il secondo, penso che è un risultato meritato il nostro, continuiamo a fare la nostra strada. È una delle vostre migliori partite dell'ultimo periodo perché avete iniziato bene dall'inizio fino alla fine poi di fatto. Sì, soprattutto in quanto al gioco, siamo riusciti a giocare tanto, tanta palla a terra nel centrocampo, ci siamo trovati bene con Dominguez, con Serra, con Lele Lovrano e penso di sì, è stata una delle nostre buone partite. Avete giocato tutti bene, però tu in particolare sei stata la chiave di questa gara perché hai questo dono di poter fare il centrocampista in appoggio alla punta, arretri e quindi diventi un po' inmarcabile. A volte quello mi fa andare bene perché posso fare un po' di tutto e a volte ci sono dei mister che forse quello non lo preferiscono perché fare un po' di tutto è... ma questo mister lo ha capito, posso fare un po' di tutto sempre per aiutare la squadra, sempre per dare una mano, cioè del centrocampista, difensore, attaccante, io voglio giocare e fare bene con la squadra è solo quello. E non soltanto aiuti la squadra in campo, ma poi vai anche a segno, con il gol di oggi sono sette tra campionata e Coppa Italia, quindi stai... vuoi superare il tuo fratello? Eh, se non lo hanno portato a quello come il bomber, ma sono io il bomber, ma sto scherzando, sto scherzando a lui, un saluto a lui che è un problema del ginocchio, vediamo se si recupera, spero che non ha niente, ma sì, il settimo gol, sto arrivando tanto in aria e fortunatamente sto riuscendo a metterla dentro, il pallone, ma sì, ho fatto sei l'anno scorso, questa volta sette mi sono superato, è un obiettivo che avevo. Adesso avete il riposo, forse vi serve anche per recuperare qualche infortunato come tuo fratello? Sì, sì, anche sfidati che c'erano, questi due settimane per lavorare ancora di più, per lavorare tranquilli e la settimana prossima guardare le partite tranquilli e arrivare a Varisardo, andare a Varisardo a fare una bella partita come questa. Soprattutto dovete riportare il distacco dalla Ferrini che ieri ha vinto e adesso vi riportate a più sette. Sembra anche la Ferrini non molare, sta lì, va bene, anche noi non moliamo e penso che tra noi, il Tempio e la Ferrini ci sarà il campione di questa eccellenza e vediamo, noi continuiamo della stessa maniera sempre. Certo, complimenti all'Ilva, complimenti a Nico e in bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie Fabio, grazie, tante grazie, buonasera. Grazie.